Adesso parliamo dell'Istituto Luigi Inaudi di Manduria. Nell'ambito delle iniziative per la prevenzione al bullismo e al cyberbullismo si dota quest'anno, proprio questo istituto, di un nuovo strumento funzionale per alunni e famiglie. E sto parlando dell'attivazione di una casella di posta anonima attraverso la quale inviare segnalazioni senza esporsi. E proprio di questo voglio parlarne insieme al Preside Angelo Pronterra che è qui in videocollegamento con noi. Buongiorno Preside, benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti i nostri telespettatori. Allora Preside, questo progetto è un progetto incredibile, cioè immaginare che all'interno dell'Istituto ci sia una casella di posta in cui inserire scritte in maniera anonima delle segnalazioni da parte degli alunni. E ci può spiegare questo progetto bellissimo che voi avete messo in atto? Sì, il progetto è nato dal confronto con i nostri docenti, abbiamo messo su un laboratorio di idee per cercare di capire questo fenomeno spesso sommerso. E da questo laboratorio di idee, grazie ai docenti che si occupano di questa problematica, di questa tematica, che mi piace citarli, per il Don Bosco dove io sono reggente per l'Istituto Comunistico Don Bosco e il professore Roberto Bascià, mentre per l'Istituto Inaudito sono titolare la responsabile del bullismo e cyberbullismo e la professoressa Arianna Giorgino. Dal confronto con questi docenti è nata questa idea, questo laboratorio di idee, che consiste appunto nel far segnalare ad studenti ma anche alle loro famiglie casi sul nascere di bullismo e cyberbullismo, attraverso appunto questa segnalazione anonima con un link Google Moduli. Di questo si tratta, c'è un percorso guidato dove lo studente o la famiglia risponde ad alcune domande e mantiene l'anonimato. Bene, questo è importante. Noi ci auguriamo che anche tante altre scuole, tanti altri istituti possano seguire questo esempio molto molto bello, molto interessante e soprattutto molto importante. Poi queste segnalazioni che verranno ovviamente prese in carico saranno poi analizzate da un team di esperti. Cosa accadrà a queste segnalazioni? Le segnalazioni verranno analizzate innanzitutto dal docente di funzione strumentale e bullismo e cyberbullismo coadiuvato dal cosiddetto team anti-bullismo di cui tutte le scuole italiane, statali italiane sono dotate. Quindi oltre al referente proprio bullismo ne fa parte anche l'animatore digitale, il dirigente esconastico e altri diciamo docenti esperti su questa tematica. che verranno analizzate, diciamo che un termometro offre alla scuola il termometro delle relazioni fra pari offre questa casella anonima. Dopodiché verranno analizzate, verranno ragionate all'interno di questo team insieme al dirigente esconastico e poi eventualmente vanno prese le opportune iniziative. Certo, ma andiamo anche oltre nel senso che questo è un impegno che sicuramente la scuola prende direttamente con gli studenti ma questo è allargato sicuramente anche alle famiglie e poi rispettivamente alle comunità perché quando parliamo di aiuto e di permettere ai ragazzi di crescere in un ambiente sano, in un ambiente civile, stiamo pensando anche alle famiglie e stiamo pensando di conseguenza anche alle comunità, alla comunità, a tutta la comunità. Così, Preside? La scuola non è altro che una comunità allargata all'interno della società, una micro società a scuola. La scuola da sola non ce la fa. Se non c'è questa collaborazione educativa tra scuola e famiglia allargata all'interno poi di un contesto sociale, la scuola da sola non ce la fa la scuola. Ecco perché è importante allargare all'interno di un territorio queste ed altre iniziative. C'era un detto africano che diceva per allevare, per educare un bambino occorre un intero villaggio, un'intera tribù ed è proprio così. Certo, assolutamente. Poi quando parliamo magari di grandi città questa cosa viene un po' meno, però qui ci troviamo a Manduria, che è una città non immensa, non grandissima. Per cui c'è ancora, le chiedo, Preside, questo senso di comunità, cioè degli adulti del paese o della città che aiutano in qualche modo i ragazzi, che intervengono se ci sono magari anche delle cose, non so, per strada, al parco o questo. Lei ha notato questo tipo di interventi? Esistono ancora? C'è questo proprio essere comunità, sentirsi un grande senso di appartenenza, no? In questo senso. Allora, per quanto mi riguarda il senso di appartenenza, io lo sento soprattutto da parte delle famiglie di questi nostri studenti. Sì, la scuola è collocata all'interno del comune di Manduria, però abbraccia un bacino che va addirittura fuori provincia. C'è l'Istituto Inaudi, ad esempio, attira studenti anche dai paesi limitrofi. Ma io, diciamo, la preoccupazione e l'interesse, io lo avverto sia da parte dell'amministrazione, in primis, da parte dell'amministrazione comunale di Manduria, ma anche poi da parte delle altre amministrazioni limitrofe. C'è questo, diciamo, scatta questo senso di appartenenza che magari, non so, in una città un po' più grossa o metropolitana potrebbe sfuggire. Io lo percepisco, perché abbiamo rapporti con i servizi sociali del comune di Manduria, con i servizi sociali dei comuni limitrofi. Noi abbiamo costanti rapporti e quindi io l'avverto questa preoccupazione e questi interessi e questo senso di appartenenza anche da parte degli enti territoriali o degli enti comunali. Assolutamente. Io la ringrazio per essere stato mio ospite, preside. Auguro a lei e a tutti quanti i docenti, gli studenti e le famiglie buon lavoro e ci rivediamo presto qui su Radio Cittadella, su Studio Cento. Presto, grazie ancora. Grazie per questa opportunità, grazie a Studio Cento. Grazie.